Ciao ragazzi, da quest'oggi si apre un nuovo capitolo perché da oggi inizierete a vedere delle magie che andranno oltre la vostra immaginazione in una qualità abbastanza potente, in un luogo abbastanza carino e molto magico. Io non ho niente altro da dirvi e da oggi si apre un'altra era. Buona visione! L'effetto magico che vi voglio portare oggi è chiamato il teletrasporto degli assi. Lo so, è un trucco di magia di cui avrete sentito parlare tantissime volte perché è uno degli effetti più conosciuti nel mondo magico delle carte. Però oggi non voglio solamente limitarmi a farvi l'effetto, ma come avete visto proprio a renderlo il più magico possibile perché è uno dei miei effetti anche preferiti. E come sapete la storia di questo effetto è il passaggio degli assi, la sparizione degli assi che si raduneranno tutti sotto l'asso più importante, ovvero l'asso di picche. Buona visione! Buona visione! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.